GF VIP, Manuel Bortuzzo bacia Aldo Montano, la reazione di Lulu se la si è Manuel Bortuzzo il bacio ad Aldo Montano al grande fratello VIP 6 Nella giornata di ieri il GF VIP 6 ha deciso di dare una nuova prova agli inquilini VIP della casa più spiata dagli italiani In cosa consiste? I concorrenti del grande fratello VIP, nel momento in cui sentono il classico, Freeze Devono baciare la persona che hanno al fianco senza farsi troppi problemi E durante la cena di ieri sera, appena c'è stato questo, Kiss Freeze, Manuel Bortuzzo Nonostante avesse Lulu e il l'S Lassia al suo fianco, ha preferito baciare l'altra persona all'accanto Aldo Montano, le foto di questo momento sono disponibili dopo il secondo paragrafo Ovviamente la reazione di Lulu se la si è al grande fratello VIP 6 non si è fatta attendere, anzi GF VIP 6, Lulu se la si è dopo il bacio tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, e, frenato Anche Lulu se la si è ha commentato il bacio tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo al grande fratello VIP 6 Di fatti le altre concorrenti del GF VIP hanno subito voluto chiederle un'opinione su questo gesto inatteso di Manuel Bortuzzo Il quale venerdì scorso ha avuto una sorpresa speciale E Lulu se la si è pare non essersela presa più di tanto Asserendo di essere convinta che lo sportivo ormai sia frenato pensando a cosa possono dire fuori dalla casa più spiata dagli italiani Se fossimo stati da soli l'avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa Perché sentirebbe, oddio vi siete baciati, sai, tutti lo direbbero Quindi davanti agli altri si frena E' proprio per questo motivo che Manuel Bortuzzo avrebbe preferito baciare Aldo Montano, invece che lei Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo Lulù se la si è su Manuel Bortuzzo al grande fratello VIP, lui non ama certe cose Lulù se la si è parlando sempre del famoso bacio scattato tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano durante la prova del kiss freeze al GF VIP 6, ha poi concluso facendo un'altra riflessione Di fatti secondo Lulù se la si è Manuel Bortuzzo non amerebbe che in puntata venga messo in mezzo in simili situazioni Gossippare Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare Gli avrebbero chiesto, hai provato qualcosa? Lui non ama queste situazioni Lulù e il le se la si è avrà ragione a pensarla in questo modo Gli avrebbero chiesto, hai provato